buongiorno a tutte e a tutti il consiglio di lettura di oggi è viaggio a ecospring storie di scrittori e alcolismo scritto da olivia lang 319 pagine 24 euro edito dal saggiatore il libro è stato pubblicato in italia nel 2019 olivia lang è una scrittrice e critica letteraria inglese cresciuta in una famiglia di alcolisti quindi capiamo subito come sia nata in lei l'idea di questo libro ha condotto una ricerca bibliografica molto importante durata circa due anni negli stati uniti ed il risultato è stato questo affresco molto interessante su sei scrittori americani del 1900 francis scott figgerald ernest emingway tennessee williams john civa john berryman e raymond carver tutti morti abbastanza giovani a causa dell'alcol pensate che tennessee williams è morto a 72 anni mentre raymond carver solamente a 50 ecco spring è l'armadietto dei liquori citato nell'opera molto nota di tennessee williams lagata sul tetto che scotta e direi che il tema principale la dimensione principale e che permea tutto questo libro è quella del viaggio viaggio come ricerca scoperta come trasformazione come cambiamento un viaggio nella letteratura sicuramente un viaggio nell'alcolismo e nei problemi marco correlati ci sono anche alcuni appunti di tipo scientifico su questi tipi di problemi un viaggio fisico nei luoghi nei quali gli scrittori hanno vissuto e sono morti ma anche forse soprattutto un viaggio in se stessa nei problemi alcol correlati della propria famiglia e della propria vita pensate che nella quarta di copertina viene citata una riguardo all'autrice una ossessione divorante per investigare il rapporto tra scrittori e alcolismo alla luce di questo cioè non c'è bisogno di essere freud o uno degli altri grandi maestri della psicologia del profondo per capire o quantomeno sospettare intuire che questa ossessione di lemme riguardi non solo gli scrittori ma anche altre persone per lei forse più importanti la sua famiglia se stessa in rapporto all'alcolismo e ai problemi alcol correlati mi sono sorte anche alcune riflessioni che voglio condividere con voi la prima riguarda il successo anche quello che dura nel tempo non solo quello effimero ebbene il successo evidentemente non significa necessariamente benessere e vivere bene questi sei scrittori sono state persone di grande successo e non si può dire che abbiano vissuto bene che abbiano vissuto serenamente un'altra riflessione è quanta sofferenza sono io disponibile ad accettare nell'altro per il piacere di godere per esempio di un'opera d'arte o di un progresso scientifico riguardo ai progresso scientifici penso l'esempio che faccio sempre sono gli esperimenti nazisti che vennero fatti e che hanno accresciuto enormemente le conoscenze in campo medico delle quali tutti ci avvantaggiamo ma a quale prezzo insomma quanto male siamo disposti ad accettare nell'altro se questo male viene al nostro beneficio questo è un dubbio di natura oserei dire etica che non è facilmente risolvibile vorrei concludere questo consiglio di lettura con un piccolo brano che è il brano finale del libro l'autrice in quel momento stava ritornando in inghilterra dagli stati uniti aveva concluso la sua esperienza va nel posto dove è sepolto carver su un poggio in riva al mare e scrive pensai a tutto quello che avevano scritto al senso che avevano dato alle loro vite tormentate e seduta lì nell'erba in cima alla scogliera capì perché amavo così tanto il racconto di r e del pesce tagliato a metà tutti in qualche modo siamo come r nel senso che tutti abbiamo dentro di noi qualcosa che può essere rifiutato che sotto la luce sembra d'argento certo possiamo negarlo o buttarlo via possiamo odiarlo a tal punto da ucciderci di alcol alla fine però l'unica cosa da fare è mantenere il controllo mettere insieme i pezzi è a quel punto che comincia il recupero e a quel punto che la seconda vita quella buona può avere inizio buona lettura grazie a tutti Grazie a tutti.